Adesso sto cercando questo qua, tornato a quattro, guardate cosa c'è qua, c'è un altro un po' scatissimo, però sto girando solo intorno qua ma appena intorno mi hanno mollato da paura. Bellissimo, come è messo un po' anche difficile perché la neve sta andando via adesso, diciamo un po' tutta roba che era un pelino sotto la neve, era anche un po' difficile da intercettare, anche un po' per gli altri sono stato un po' fortunato che sta andando un po' via la neve e diciamo che è stupendo oggi, è stupendo, ragazzi miei qua vengono tanti di quei risotti, mamma mia veramente devo comprare almeno tre chili di risotto per farli tutti, le corna fresche ci sono, bellissimo, bellissimo. Alla prossima, ce n'è due freschi per terra ancora, tre, vediamo se riusciamo a trovare almeno uno, almeno una coppia, so tra po' arriva lo zio che mi dà forza e cerchiamo questi qua, ciao ragazzi, ciao.